Buongiorno, quindi come primo suggerimento di lettura vi propongo Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro. È un libro che è stato pubblicato nel 1994, ha avuto un enorme successo di pubblico diventando un vero e proprio bestseller, tradotto in diversissime lingue, e la storia raccontata dalla Tamaro tratta di una signora, una signora anziana triestina di nome Olga. Questa signora un giorno ha un malore e il medico le dice che non le rimane molto da vivere. A questo punto la signora Olga decide di scrivere una lettera alla nipote Marta che si trova in America e le scrive questa lettera proprio per non rovinare il suo soggiorno americano. In questa lettera Olga racconta, racconta un po' la sua infanzia, racconta del suo matrimonio avuto con Augusto, della figlia Ilaria, nonché madre di Marta, e durante la stesura le rivela due segreti. Quali siano questi segreti? Lo potete scoprire soltanto leggendo il libro, ovviamente. Quindi io vi consiglio la lettura del libro e l'acquisto e vi suggerisco anche di ascoltare il primo capitolo letto da Gaia Pozzi. Buon ascolto!